Ciao ragazzi, faccio questo piccolo vlog a tarda sera perché ho appena finito di fare una recensione su Amazon e guardate quanti prodotti devo ancora recensire sono tornato da Berlino e ho trovato la scrivania sommersa di roba in realtà non sono solo questi perché ne mancano ancora due all'appello e tra l'altro non sono riuscito a trovarli oggi al lavoro e non so che fine abbiano fatto ma vi dico un attimino quello che recensirò a parte che ho questo NAS che qui praticamente da tre mesi lo sto usando tranquillamente tutti i giorni è un ottimo NAS della Synology e devo recensire anche quello ma quello lo farò più avanti è arrivato un altro, è arrivato un altro NAS della Terra Master guardate, un NAS con processore Intel, credo abbia un gigabyte di RAM comunque non è a 512 quindi è un NAS abbastanza importante o un giga o due gigabyte di RAM poi abbiamo un prodotto che è un prodotto particolare mi è arrivato da Amazon ho voluto comprare perché ho voluto provare queste maledette cuffie via al pacco praticamente sono delle cuffie da gaming cuffie da gaming non vi svelo la marca, non vi svelo nulla in realtà vabbè potete leggerla qui sono cuffie LGS 600 per PC PS3, PS4 per Xbox le mettono in questa parte perché verranno recensite a bere e poi ho tutta una serie di accessori che servivano a un amico li ho acquistati perché praticamente volevo recensire anche questi prodotti poi mi sono stati regalati tipo dei gadget tipo una chiavetta vedete una chiavetta con la possibilità di inserire una scheda SD poi questo non è nulla questo non è nulla sono praticamente degli aggeggi che servono per metterli sulla bicicletta e per far sì che praticamente si possa andare in bici con lo smartphone questo è veramente bello perché è praticamente anche una custodia praticamente ha la sua cernierina ok? funziona il top screen c'è proprio l'aggancio per il supporto da metterci sulla bici e questo invece è un prodotto che serve per metterlo in macchina dedicata all'iPad insomma 300 milioni di prodotti da recensire sinceramente devo trovare il tempo per farlo e niente per darvi un attimino notizie di quello che farò a breve e poi devo fare un video speciale per una persona speciale che praticamente stamattina mi sono svegliato e mi ha fatto un regalo un regalo che non mi sarei mai aspettato per gli iscritti che ho perché ho uno sputo di iscritti 2000 neanche in realtà ne mancano ancora 200 ad arrivare a 2000 ma non vi anticipo nulla faccio un vlog solo per lui lui sa di chi sto parlando però gli altri no quindi se volete sapere cosa mi è successo stamattina è una cosa molto particolare che per uno youtuber se è così piccolo come me non me la sarei mai aspettata quindi vi invito ad iscrivervi magari guardate qualche mio video datemi qualche consiglio e mettete sempre un like in tutti i miei video perché mi date modo di crescere e mi date forza per andare avanti niente dai per questo piccolo vlog è tutto io vi ringrazio e vi auguro buonanotte e ci sentiamo per le prossime recensioni bye bye